Un po' di tempo fa ho seguito una conferenza dove il relatore ad un certo punto ha espresso questo concetto. Non è una canzone, un libro, un film o un amico che ti salvano, ma solo Gesù. Boh, sinceramente quelle parole mi hanno colpito, ci ho riflettuto e mi sono detto che non le condividevo appieno, perché mi sembravano un po' troppo estreme. La stessa percezione la si può avere leggendo la prima lettura di oggi, dove Pietro, parlando di Cristo, afferma ma in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. E' certamente vero che l'unico che ci salva dal peccato e dalla morte è Dio, è Gesù. Ma non dobbiamo dimenticare che proprio perché desidera farlo le studia tutte pur di raggiungere questo scopo, questo obiettivo. Se volgiamo lo sguardo al Vangelo, Cristo si definisce il buon pastore, che si prende cura delle pecore. Ecco che allora le cose assumono un'altra dimensione e colorazione. Dio desidera con tutto se stesso salvare ciascuno di noi e credo che per farlo utilizzi ogni via possibile. Iniziando da quella ufficiale, che appunto passa per la Chiesa, per i sacramenti, ma attenzione, passa anche per altre religioni per esempio, perché quella frase che ho appena letto di San Pietro e nessun altro c'è salvezza potrebbe far pensare che la salvezza c'è solo se uno è cristiano. In realtà penso che le religioni, le varie religioni e spiritualità che ci sono sul nostro pianeta sono espressione del desiderio di Dio di salvarci e di venirci incontro in quelle che sono le nostre culture, che sono differenti. Per cui Dio, pur di salvarci, studia, suscita diverse religioni, diverse spiritualità, pur di consentire all'uomo di raggiungere la salvezza. Le religioni sono diverse strade che Dio suscita a partire da una determinata cultura, un determinato contesto per salvare l'uomo. E poi ci sono delle strade del tutto inattese, impensate, come una canzone, un libro, un film, un'opera d'arte, un'opera di qualsiasi genere. Tutte cose che aprono una breccia dentro di noi ci fanno scoprire che vale la pena vivere, che noi siamo preziosi, che forse c'è di più, che c'è anche Dio. Lo stesso può accadere anche attraverso l'incontro, il dialogo per esempio con qualcuno, con una persona credente o anche non credente, con la nascita di una relazione, per esempio, o di un'amicizia. Cristo risorto è davvero l'unico che salve. Per farlo ricorre a qualsiasi mezzo e canale pur di salvarci dalla disperazione, dalla solitudine, dallo sbandamento, dall'egoismo, dalle brutture esistenziali, dal pensiero addirittura di farla finita, per condurci dove? Alla fiducia, alla speranza, alla fede, al perdono, alla vita, all'amore. Se quella strada è l'unica che Dio intravede per salvarmi, lui, che è il buon pastore, la percorre pur di tentare di venirmi a prendere, resta naturalmente la mia libertà di lasciarmi afferrare per mano. L'amore del Signore per ciascuno di noi allora è davvero immenso, così come è sconfinata la sua creatività, e per questo pur di salvarci le studia tutte, le inventa tutte, ne inventa di ogni, ed è disposto a percorrere qualunque via pur di salvarci. Non a caso addirittura ha compiuto l'impensabile e l'inimmaginabile per un Dio, cioè si è fatto uomo ed è addirittura morto per noi. Siamo in pieno tempo pasquale, un momento particolare dell'anno liturgico, nel quale dovremmo cogliere, fiutare la presenza di Cristo risorto che pervade tutta l'esistenza e che riesce a passare anche nei luoghi più oscuri, nelle situazioni più disperate, che può aprire porte anche laddove sembra non esserci più via d'uscita, e per farlo utilizza un imezzo, in grado di veicolare bontà, bellezza, accoglienza, umanità, capaci di toccare il cuore e la mente umana. Noi spesso ci comportiamo come se fossimo delle pecore nere, pecore ribelli, ci andiamo ad infilare in oroveti di rupi dai quali sembra che non si se ne possa uscire, ma Cristo risorto, Cristo buon pastore, per Cristo risorto e per Cristo buon pastore non esiste luogo, non esiste situazione, dramma, peccato, bruttura, fallimento, solitudine, dove lui non possa raggiungerci utilizzando ogni tipo di stratagemma. A questo proposito, mi viene alla mente un artista statunitense di cui vi invito a conoscere sia la vita che le opere. Si tratta dello statunitense William Condon, nato nel 1912, nato oltretutto il giorno del del naufragio del Titanic e morto nel 1998. L'infanzia di William è segnata dal difficile rapporto con il padre, la giovinezza è segnata dal disagio verso la società capitalista americana e poi è ferito profondamente dai drammi della Seconda Guerra Mondiale, ai quali assiste perché partirà come volontario con l'American Field Service in Europa guidando ambulanze. Tutto questo poco per volta farà crescere in lui un profondo senso di impotenza e di orrore nei confronti del male che abita ogni uomo e che si manifesta nella storia a tal punto da convincersi che non vi è salvezza. Tutto ciò lo condurrà sull'orlo del suicidio. Cosa salverà William dal baratro? Lasciare gli Stati Uniti e compiere un viaggio in Italia. Sarà il vedere Venezia, Napoli, Roma che lo salverà e che li farà percepire che esiste anche una luce, una bellezza che abita le cose, che abita l'uomo, che abita la storia. Assisi sarà poi la svolta definitiva, l'incontro soprattutto con Don Giovanni Rossi, fondatore della Procivitate Cristiana. Questo lo aprirà alla fede e a Cristo. Piazza Venezia, numero 9, del 1952, che vi allego insieme al testo e all'audio, è uno dei quadri dove dipinge Venezia e che dipinge a Venezia rivelandoci che in essa ha colto una luce inaspettata che lo aprirà alla vita e poi alla fede. Per cui è bello pensare che Dio si serve anche di una città per salvare l'uomo, per andare incontro alle sue pecore smarrite. Buona domenica a tutti.